Dal 18 al 20 di agosto il centro cittadino di Eboli diventa un lido urbano, con tanto di ombrelloni, sdraio, castelli di sabbia e una vivace atmosfera vacanziera. Obiettivo è unire le due anime di Eboli, quella puramente cittadina e quella del mare. Pop-up è una sfida, ovvero quella di ricreare un lido in piazza che appunto viene rinominata la spiazza della Repubblica. Saranno una o due giorni, più la preview che ci sarà alla Marina di Eboli, dove verranno abbracciati tantissimi generi musicali con ospiti di tantissimo successo. L'idea è quella di riconnettere la Marina al centro cittadino, riportando in piazza l'atmosfera di un lido in festa, con ombrelloni e sdraio. Si parte il 18 agosto dal Summer on a Solidarity Beach, il lido comunale, presso Marina di Eboli. Si termina in piazza della Repubblica il 20 agosto, con un line-up di tutto rispetto, con artisti della scena sia italiana che internazionale. Noi di Groove Studio siamo molto felici di aver avuto l'opportunità di sviluppare questo concept e sicuramente ci divertiremo. Una bella idea questa, nuova per la verità, che il consigliere delegato Vito Marateci ha proposto, io ho accolto, perché mi sembra qualcosa di veramente innovativo. Cioè mettere insieme tutta la città, sia la Marina che il centro urbano, e farlo con un festival di musica e soprattutto anche con degli allestimenti che possono coinvolgere i bambini, gli adulti, e soprattutto chi vuole ascoltare la musica in modo diverso in questo lido che viene costruito in piazza. È qualcosa veramente di innovativo. Credo che interesserà tantissime persone che verranno anche dalla comunità vicino alla nostra, perché veramente è qualcosa di innovativo, di qualcosa che non si fa da nessuna parte. Siamo riusciti ad attrezzare all'interno della manifestazione un'area food composta solo da esercenti enno gastronomici e bolitani. E quindi diciamo che il 19 e 20 agosto, oltre al Villaggio dei Bambini, al Lido Urbano, dove vedremo questo stabilimento urbaneare nella nostra piazza della Repubblica bellissima, ci sarà anche un'area food fatta di piatti tipici e bolitani. Poi chiaramente tutti adesso vi invitiamo direttamente il giorno 19 in piazza della Repubblica, il preview del 18 agosto al Lido dei disabili a mare. Il 18 agosto una piccola preview dell'evento a Marina di Eboli, con dei gruppi emergenti della nostra città e dell'intera provincia di Salerno. Il 19 e il 20, grande musica e grande spettacolo per bimbi, giovani ed adulti in piazza della Repubblica. No Braino, Tonico 70 e Dadai il 19 agosto, Baracca Republic e James Enese il 20 agosto. Vi aspettiamo per vivere insieme un momento di relax.